Questo è un altro di quei video che sinceramente preferirei non fare, ma dato che sono qua, cosa è successo stavolta? Come avete visto, e se non l'avete visto comunque ve lo spiego adesso, nel post di stamattina vi ho parlato del fatto che mi hanno disattivato per 30 giorni la monetizzazione su YouTube. Quindi in parole povere per chi non sa cos'è la monetizzazione, praticamente fa parte del programma Partner di YouTube che si sblocca avendo 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione in un anno. E sostanzialmente mi è stata disattivata, infatti stamattina aprendo YouTube studio dal telefono noto che mancava molto banalmente l'analytics, quindi praticamente il dato delle entrate negli ultimi 28 giorni, cosa che c'è sempre stata da quando ho attivato la monetizzazione appunto a ieri. E io lì per lì dico vabbè non ci sono problemi, comunque sono bug che capitano, non è la prima volta che ci sono problemi insomma con la monetizzazione che magari non mostra i dati eccetera, questi cavoli non ci sono problemi. Però per sicurezza cosa ho fatto? Ho controllato le email che comunque YouTube quando fa qualcosa al tuo canale lo scrive per email sostanzialmente. Apro le email, aggiorno e mi viene fuori una cosa veramente che mi ha traumatizzato. C'era scritto, buongiorno Nax, la monetizzazione per il tuo canale YouTube è stata disattivata. E io lì per lì veramente, non lo so, ero andata in panico, non ci stavo capendo niente, veramente perché quando leggi queste cose non capisci mai se è una cosa che è irreparabile, non capisci mai veramente cosa puoi fare, sei lì che semplicemente subisci quello che ti accade. E io lì per lì ho detto ok, fermi tutti, in questo momento non posso fare niente, con calma quando tornerò da scuola cercherò appunto di capire cosa è successo. Quindi torno da scuola, mi leggo tutte quante le norme della monetizzazione per cercare di capire cosa avessi violato oppure cosa fosse successo insomma. E mi cascono gli occhi su delle norme che in realtà mi erano state proprio specificate sulla pagina di monetizzazione del mio canale. C'era proprio scritto la monetizzazione ti è stata disattivata per questo, questo e quest'altro motivo. Io quindi ho detto ok, non ho idea di cosa cavolo voglia dire questo motivo, me lo vado a leggere sulle norme proprio sul sito insomma dove ci sono scritte tutte quante le regole della monetizzazione di YouTube. Me lo sono andato a leggere e ho visto che praticamente quella norma che avevo violato era molto banalmente il, diciamo il riutilizzo da quello che ho capito di contenuti da altri canali. Detto così potrebbe suonare come cosa? Che cavolo è sta roba? Infatti anch'io la mia prima reazione è stata questa, non ci ho capito praticamente niente. E quindi cosa ho fatto? Una volta arrivata a casa appunto ho contattato l'assistenza di YouTube via chat, che è una funzionalità soltanto per chi è partner, quindi per chi ha la monetizzazione. Io lì per lì avevo paura che me l'avessero tolta proprio perché appunto non avevo più la monetizzazione, però fortunatamente quella era rimasta. Alcune funzionalità erano rimaste tra cui quella, una botta di fortuna stranamente. Comunque appunto sono andato lì, ho contattato un assistente insomma e questo assistente mi ha spiegato praticamente cosa era successo. Che mi avevano praticamente disattivato la monetizzazione per i motivi che c'erano comunque già scritti nella mail eccetera. Insomma erano motivi che io avevo già compreso. Gli ho quindi chiesto cosa vuol dire questa roba, cioè perché me l'avete tolta, cioè cos'è questo motivo? Cosa ho fatto di male? Cioè ho capito che il motivo è questo, ma in cosa consiste? Molto banalmente consiste appunto come vi ho detto nel prendere video, copertine o comunque immagini di altri canali senza dare del tuo. Cioè avete presente quando voi rubate una cosa per quanto riguarda il mondo online e non mettete niente di vostro, cioè la rubate e basta ricaricate così. Ecco questo per quanto riguarda la monetizzazione di YouTube, cioè per quanto riguarda le norme di monetizzazione, è una cosa sbagliata. Quindi da quello che ho capito io il motivo era proprio quello. E voi direte sì ok e quindi? Beh quindi ovviamente anche se voi rubate dei contenuti da altri canali, li prendete eccetera senza dare i crediti eccetera, potete farlo se il contenuto che voi create è per esempio una YouTube poop oppure non lo so una reaction appunto vera e propria, ma non che voi prendete i contenuti e parlate traducendo quello che l'americano o comunque l'altro creator ha detto. Questo secondo YouTube è sbagliato da quello che ho capito io, poi magari mi sbaglio ma sicuramente non è una cosa che gli fa piacere e è proprio contro le norme della monetizzazione. Perciò in poche parole cosa succederà adesso? Beh da quello che ho capito tra 29 giorni adesso perché appunto dovrebbe essere il 4 di giugno, 30 barra 29 giorni, mi sarà praticamente disponibile la possibilità, cioè avrò la disponibilità di rifare domanda per la monetizzazione. E io lì per lì ho detto ok sono contento la rifarò sicuramente, però se mi hanno tolto la monetizzazione adesso la prossima volta faranno lo stesso, cioè mi rifiuteranno la domanda perché se ho violato qualcosa e non so di preciso cosa non posso tra virgolette diciamo rimediare i miei errori. In realtà da quello che ho capito anche parlando con l'assistenza avevo appunto creato dei contenuti che non mi ha detto lui quali erano insomma però mi ero immaginato io che fossero dei contenuti proprio presi da un altro creator ricaricati dove io praticamente parlavo sopra dicendo quello che bene o male aveva detto l'americano sostanzialmente. E ovviamente questa è una cosa sbagliatissima che io sinceramente non so perché ho fatto, me ne pento altamente infatti i quei video sono stati già eliminati, però da quello che credo io è proprio questo il motivo del perché mi avevano disattivato la monetizzazione. Ho perveduto quindi appunto a cancellare i quei video come vi ho detto e da quello che credo tra 30 giorni quando rifarò la domanda me la riaccetteranno anche perché se ci pensate la prima volta che io ho chiesto la monetizzazione loro hanno revisionato il mio canale attentamente, hanno praticamente dedotto che il mio canale fosse tutto quanto in regola. Quindi come mai me la dovrebbero disattivare adesso così a caso? Cioè io comunque quei contenuti là non dico che li ho sempre fatti ma più o meno insomma. Poi ovviamente dipende sempre cosa intendono quelli di YouTube perché non sono mai esaustivi nelle spiegazioni quindi non si capisce mai bene loro cosa intendono per violazione delle norme oppure se sei diciamo nel rispetto delle norme. Comunque appunto come ho detto già dieci volte, deducendo che i contenuti che fossero stati incriminati diciamo fossero quelli caricati completamente senza creare intrattenimento mio quindi semplicemente traducendo quello che aveva detto l'altro YouTuber li ho eliminati e da qui diciamo la situazione dovrebbe essere cambiata. La monetizzazione per un mese non sarà attiva quindi non potete donare, non potete vedere annunci nei video, non potete abbonarvi, però da quello che so gli abbonati che ci avevo dovrebbero restare abbonati a meno che loro stessi non disattivano l'abbonamento. Però se nessuno di voi disattiva l'abbonamento da quello che so dovrebbero rimanere finché non riattivo di nuovo la monetizzazione. Ovviamente non si sa perché come detto non ci sono mai spiegazioni ben definite, non si capisce mai bene però se qualcuno di voi è un YouTuber che a cui è successo questa cosa me lo scriva perché ovviamente sono interessato a sentire qualsiasi cosa ma in generale fatemi sapere voi cosa ne pensate perché io credo che sia una cosa giusta però arriviamo qua all'ultima parte del video che è quella che mi ha fatto diciamo incazzare di più ma scusate ragazzi no, ma se io ho violato queste cose tutti gli altri YouTuber di cui non farò nomi perché sinceramente cioè YouTuber anche con 500.000 iscritti forse già potete capire di chi parlo rubano video da praticamente due anni, copertine, rubano tutto, ricaricano e traducono con Google traduttore quello che lo YouTuber americano dice non gli hanno mai disattivato la monetizzazione cioè io veramente credo di essere molto sfigato proprio qua nel mondo di YouTube anche perché per quanto riguarda i copyright strike non c'entra con questo video ma sostanzialmente sono sempre io lo sfigato che si riprende mentre altri YouTuber che rubano più di me che fanno contenuti peggio di me eccetera no, no, loro assolutamente, loro sono bravissimi loro non gli facciamo niente vabbè, giustamente il mondo è comunque ingiusto dobbiamo prendere quello che ci danno e niente, semplicemente comportarci bene perché se io ero in regola e mi toglievano la monetizzazione lì mi incazzavo ma dato che comunque so che è qualcosino sbagliato l'accetto, sostanzialmente non è una cosa che mi fa girare tanto le scatole sostanzialmente basta semplicemente capire dai propri errori e non farli più però comunque questo è e niente, l'ultima cosa forse che volevo dirvi che mi sono dimenticato prima è che se siete YouTuber mi raccomando non rubate i contenuti agli altri io in primis smetterò probabilmente di prendere contenuti dagli altri anche se come vi ho detto i video interi saranno stati video da 20 secondi, 30 secondi che ricaricavo e parlavo sopra appunto questi video ma non erano video da per esempio 10 minuti erano semplicemente spezzoni di video che però ovviamente ho provveduto a eliminare in quanto sbagliate quindi voi mi raccomando impegnatevi sempre per creare il vostro contenuto per quanto riguarda le copertine dei video non ho ben capito se conta o no questa norma io nel dubbio credo di sì ma non lo so sinceramente cioè non lo so se voi lo sapete scrivetelo però in ogni caso comunque questo è e niente ci vediamo con un prossimo video i video comunque usciranno lo stesso cioè io vi ripeto a me dei soldi non me ne frega un cazzo finché YouTube non è il mio lavoro non me ne frega dei soldi cioè i soldi sì ovviamente sono belli, fanno comodo ma non faccio video per i soldi perché se lo facessi per i soldi farei soltanto video che si chiamano o comunque soltanto live che si chiamano ogni donazione uno schiaffo e queste stronzate qua insomma diciamo che avrei altri metodi per fare soldi che non sono sicuramente quelli che sto adottando in questo momento ciò basta ho parlato anche troppo ci vediamo comunque domani con un prossimo video alle 18 i video saranno comunque uguali a quelli di prima semplicemente non saranno più fributati a insomma gli altri canali detto questo ciao ciao ragazzi